Tribuna Sonera, amici del Marietto, ma soprattutto amiche, bentornate e bentornate a questo nuovo appuntamento con un Marietto milanista ancora più forte, più entusiasta, più grintoso e più determinato proprio grazie a quell'infame che mi ha censurato e bannato e che continua a mettermi dislike nei miei video andate a vedere i miei video, c'è sempre un dislike ed essere sempre il solito fenomeno che probabilmente non c'è un cacchio da fare nella sua vita e vabbè, contento te così figlio mio, non è che avrai una vita molto bella immagino, sarei un po' frustrato sarei pure una persona anche, in Spagna si dice un po' abburrida, noiosa, magari d'inchiusa, lì nel tuo cesso di stanzetta mettendo i dislike, mettendo cose che possano bannare persone, vero mamone che non sei altro detto questo ragazzi, senza fare altre ulteriori polemiche perché già gli ho regalato un minuto della mia vita a questo personaggio del cazzo e quindi passiamo all'argomento di oggi ah no, scusa, volevo rispondere anche a un mio amico che in privato mi ha scritto dicendomi Mario ma com'è che hai così pochi iscritti rispetto a certi youtuber che nel calcio per esempio ne ho molti di più innanzitutto, questo non lo so, non lo so anche perché i meccanismi, gli algoritmi di youtube non li conosco io a parte dirvi a voi che mi volete bene, le persone muovere i miei video nei social fare sì che i vostri parenti, amici e conoscenti si iscrivano e questa movida si muova per la rete io ragazzi non so che fare, certamente alle persone piace molto vedere più gente che mette lì fogli su fogli attaccati che vi fa le sue spiegazioni come se fosse il grande professorone o piuttosto che altri che urlano sbraitano, spaccano piatti e vabbè, quello fa parte degli show me io nella mia vita preferisco circondarmi di gente intelligente quindi quelli che escono dal canale sono solo dei cretini perché fondamentalmente non hanno capito proprio un cacchio della persona che io sono perché per me il calcio è una parte integrante di una serie di cose molto più importanti nella mia vita però essendo una passione, essendo che io amo il calcio e amo questi colori vado avanti per la mia strada senza paura e con gran coraggio come ho sempre fatto detto questo passiamo ragazzi all'argomento di oggi perché è qualcosa che nessuno ne parla tutti parlano di un ritorno alla Champions League, l'Europa League e la Premier League e la Liga Francese che non inizia, la Liga Belgica che non inizia prendiamo esempio da quello e non prendiamo esempio dall'altro dall'altro qualche parola anche in spagnolo in Italia invece niente, in Italia si parla di un campionato, riaprono, riaprono oggi il Milan hanno ricominciato in 5 se non mi sbaglio ad allenarsi individualmente a Milanello sotto gli ordini di Pioli e poi per il pomeriggio ce ne sono altri però nessuno, e dico nessuno, parla della Coppa Italia perché? Perché? tutti dicono, va beh, è una coppetta, allora facciamo una cosa, togliamola di mezzo scusate, a cosa serve mantenere una competizione che cercano di snobbare tutti perché alla fine non serve un cacchio innanzitutto io ho una mia proposta che lascio per il finale del video però voglio leggervi quella che stamattina mi è capitata di capitare, mi è capitata di capitare, mi è capitata di capitare, mi è capitata tra le mani e una proposta che parla come trasformare la Coppa Italia in una competizione più inclusiva innanzitutto facendo un breve scursus di questa competizione ricordiamoci che è nata nel 1922 e la prima squadra vincitrice è stata la squadra piemontese che era il vado, o era una squadra ligure, mi aiutate, io penso che era piemontese e comunque non partecipavano tutte le grandi formazioni di rilievo sono stati tanti anni che questa competizione addirittura è stata lasciata in soffitta fino al 1935 e per quanto poi una volta che è stata ripresa negli anni non è che gli sia mai data una grande importanza a parte quando in Europa a un certo punto nel 1958 su impulso di vari organismi internazionali si creò la Coppa delle Coppe e quindi la Coppa Nazionale divenne una Coppa importante infatti finché esisteva Coppa Campioni, Coppa delle Coppe e Coppa UEFA sì che le squadre erano interessate anche a giocare la Coppa Italia e cercare di vincerla perché in Coppa dei Campioni ci andava solo una squadra in Coppa UEFA se non sbaglio ci andavano altre tre o quattro se non sbaglio e la Coppa Italia ti portava direttamente alla Coppa delle Coppe quindi giocavi con squadre che avevano vinto le loro competizioni nazionali diciamo che poi ci sono state anche l'unico momento probabilmente che ci ha avvicinato alla Coppa più importante del mondo a livello nazionale che secondo me è la FA Cup, la Coppa d'Inghilterra perché è la più antica e soprattutto la più sentita anche dagli inglesi per esempio nel 96-97 in Italia c'è stato un modello all'inglese dove c'era una sfida in gara secca per i primi tre turni con ripetizione del match in caso di pareggio con le squadre di Serie A in campo già dal secondo turno e costretta a giocare fuori casa un format che fece saltare presto alcuni club di livello come Sampdoria, Roma, Parma fuori per mano di Genoa, Cesena e Pescara addirittura noi del Milan eravamo costretti a replay con l'Empoli l'Inter e Lazio avanti solo di misura contro Ravenna ed Avellino addirittura la Juve che era appena fresca vincitrice della Champions League fu chiamata alla ripetizione nel terzo turno dopo aver pareggiato 0-0 in casa della Nocerina quell'edizione fu poi vinta dal Vicenza di Francesco Guidolin quindi gli si dava l'opportunità anche a squadre piccole di andare avanti e veramente era tanta tanta roba poi ci sono state forme che volevano avvicinarsi anche al format francese come avere 42 squadre di A e B e 36 club di C1, C2 e Interregionali questa era una formula voluta da Matarrese nell'edizione 2008-2009 però alla fine poi si mise anche questa di là quindi la proposta che fanno è come ripartire allora qua innanzitutto fanno proprio delle proposte proposte sul calcio italiano innanzitutto lasciando l'A e B come sono però riproponendo un AC1 professionista a un solo girone a 20 squadre un AC2 a due gironi da 20 squadre e poi sette gironi da 16 squadre in serie D o come veniva chiamata la vecchia Interregionale in questo modo come lo vogliono guarda non vi sto dicendo cazzate ho proprio scaricato dalla web guardate praticamente il primo turno preliminare prevede come 112 club di serie D passa tutto gara secca la vincitrice passa al secondo turno preliminare dove ci sono 56 club di serie D per passare poi un primo turno dove entrano in gioco 28 club di serie D 40 di C2, 20 di C1 e le 20 di B e 20 di serie A in questo modo praticamente già le squadre grandi entrerebbero quasi dall'inizio cioè una volta passati i primi due turni e possono succedere veramente delle sorprese che addirittura possono portare a squadre anche meno blasonate a avvicinarsi a quel sogno di arrivare a Roma e diventare veramente campione della Coppa Italiana questo è un'ottima proposta a mio avviso ottima proposta a mio avviso però io aggiungerei una cosa in più perché la vincitrice di Coppa Italia visto che non esiste più la Coppa delle Coppe e quindi uno che vince la Coppa Italia andrebbe sì nei gironi diretti di Europa League perché non facciamo che direttamente chi vinca la Coppa Italia acceda alla Champions League? Sicuramente ci sarebbe ancora più fervore per le squadre già non metterebbero squadre 2 e squadre 3 già comincerebbe anche le televisioni sentire odori di business e quindi si potrebbe dare un senso più grande anche a questa competizione che così com'è sinceramente è una palla al piede parliamoci chiaro eppure, eppure se vogliamo far ripartire il calcio in una maniera più globale e molto più forte io penso che questa sarebbe la soluzione ideale ditemi voi cosa ne pensate qui nei commenti in basso ragazzi mi raccomando io so che siete persone intelligenti coloro che mi seguono e meno male che ci siete voi ragazzi perché veramente se no ogni giorno qua bisogna fare testa a testa con l'ignoranza a tutti i livelli quindi ditemi voi il vostro pensiero qui nei commenti in basso se vi è piaciuto il video a parte il like condividetelo nei vostri social fate sì che i vostri amici parenti e conoscenti si iscrivano al canale del Marietto Milanista e anche della mia crew Kashavit Crew insieme a Lavox Rosso Nero Diavolo Veste Milan e Niccolò Crespi mi raccomando mi fido di voi ragazzi campanellina accesa sempre che deve fare un dondin dan dun dan den ogni volta che entra un mio video e sempre dal Marietto Milanista il cuore rosso nero è sempre tale ragazzi non è che adesso se non do notizie di calcio è perché non voglio più parlare di calcio è perché finché è una decisione mia personale non ricomincio a vedere le squadre che si allenano giocano e ricominciano veramente partite ufficiali il calcio che conta secondo me tutto quello che si sta sentendo nel mainstream è fumo quindi il fumo due cose o vi fate una bella inalazione quando avete raffreddore e respirate vapore così o se siete fumatori fumate ma non cadete nelle trappole che vendono giornali e televisioni soprattutto in questo momento mi raccomando mi fido di voi quindi dal vostro Marietto Milanista con il mio cuore sempre bello stampato rosso nero forza Milan ovunque e comunque vi do un grosso bacio a tutti ma soprattutto a tutte le mie amiche e ci vediamo al prossimo video ciao